buongiorno ragazze e benvenute in una nuova morning routine è un video che mi avete richiesto in tantissime finalmente ce l'ho fatta è un video molto impegnativo però mi piace tantissimo accontentare le vostre richieste aspetto i vostri like numerosissimi e i vostri commenti come sapete li leggo sempre tutti iniziamo subito la mia giornata inizia ogni mattina con pop che viene a svegliarmi con tanti bacini e leccatine è adorabile ragazze e ogni giorno inizia la giornata nel migliore dei modi con il suo amore fin quando non sono alla sveglia e quindi mi metto già a vedere il programma della giornata i contenuti che devo postare tutti i vari impegni rispondo già ai vostri messaggi su instagram messaggi privati e poi mi dirigo in cucina in cucina subito preparo la mia amata colazione assieme a pubi che mi segue ovunque per tutta la casa e lei ama giocare con i miei calzini non so se è una cosa che fanno anche i vostri cani ma lei ne è ossessionata preparo i miei integratori diet cups e fit cups di natural mojo che come sapete prendo ogni mattina e la mia colazione confette biscottate integrali marmellata senza zucchero e yogurt greco vi straconsiglio questi integratori diet cups e fit cups che tra l'altro trovate scontati sul sito natural mojo con il mio codice carlita dolce 20 con cui avrete il 20 per cento di sconto su tutto il sito natural mojo nel frattempo do anche i croccantini a pupi che è sempre molto affamata peggio di meno data la pappa pupi finalmente posso mangiare anche io innanzitutto prendo gli integratori sempre prima di colazione due diet cups e due fit cups che accelerano il metabolismo aiutano ad evitare gli attacchi di fame vi saziano tantissimo vi aiutano a stare in forma e a bruciare i grassi ragazze ve le straconsiglio dopodiché inizio a gustarmi la mia buonissima colazione fit light me vi assicuro davvero buonissima deliziosa che vi sazia tantissimo ragazze la mia colazione da buona napoletana che sono termina sempre con una bella tazza di caffè o caffè e adesso inizio la mia morning routine con i miei super prodotti preferiti che adoro che ho rifornito sul mio shop quindi da adesso li potete acquistare perché vanno sempre a ruba questi sono pazzeschi ragazzi sono prodotti veramente anti imperfezioni anti impurità illuminanti ve li straconsiglio questa mousse dovete troppo provarla una mousse detergente viso così soffice e profumata che lascia la pelle morbida liscia luminosa elimina tutte le imperfezioni e le impurità io adoro lavarmi il viso con questa e da quando la utilizzo ho visto veramente diminuire le imperfezioni l'impurità dal viso e in più non secca la pelle ma la lascia veramente morbidissima la uso sempre mattina e sera dopodiché passo a un trattamento illuminante per il viso con questo prodotto due in uno davvero super top miracoloso si chiama glow up è una maschera scrub due in uno che ravviva l'abbronzatura il colorito sano illumina tantissimo la pelle appunto glow up e poi lascia la pelle veramente pulita morbida luminosa elimina le imperfezioni schiarisce le macchie della pelle e ravviva l'abbronzatura poi ha un profumo buonissimo di mango ragazzi adoro la lascia in posa a dieci minuti dopo averla massaggiata delicatamente su viso collo e decolté e poi mi sciacquo il risultato pelle luminosa senza macchie senza imperfezioni e abbronzatura ravvivata dopodiché mi passo il tonico questo tonico ve lo straconsiglio va bene per tutti i tipi di pelle è setificante chiude i pori dilatati quindi con questo evitate i punti neri i pori dilatati la pelle veramente si pulisce a fondo ed è molto delicato quindi non irrita la pelle e poi applico questo siero questo è un siero ragazze che vi straconsiglio vi metto il link nel box info sotto provatelo è un siero anti imperfezioni alla tripla vitamina c vi giuro è pazzesco elimina le macchie i punti neri i buffoletti le imperfezioni illumina tantissimo in più subito si asciuga è favoloso e dopodiché attivo questo contorno occhi better than botox questo illumina tantissimo lo sguardo diminuisce le occhiaie anche le rughette il gonfiore è veramente ottimo tutta questa routine vela straconsiglio contro le impurità è perfetta per l'estate perché sono tutti i prodotti che si asciugano in fretta e illuminano la pelle e ravvivano l'abbronzatura questo che sto applicando adesso è il gel super potenziato all'acido ialuronico che io metto dappertutto viso collo decoltè è favoloso elimina le impurità le imperfezioni rimpolpa la pelle e la illumina tantissimo vedrete la pelle davvero migliorare con questo prodotto e con tutta questa routine che vi ho fatto vedere ragazzi provateli sono veramente prodotti super top guardate nel box info che vi lascio tutti i link sono favolosi se fate questa routine avrete una pelle veramente da dio e ovviamente mi devo lavare i denti con questo dentifricio che guardate c'è praticamente finito l'ho usato fino alla fine è favoloso sbianca tantissimo i denti un dentifricio altitri anche di questo vi metto il link le box info perché l'ho rifornito su carità shop lo comprate sempre in tantissime perché molto molto sbiancante poi adesso mi sono preparata ma vi faccio vedere il mio outfit il mio look so che volete sapere come mi sono truccata questo vestitino che ho indossato molto fresco molto anche se sembra tipo un lenzuolo arrotolato addosso però è molto carino e molto comodo la scelta dei gioielli tutti i gioielli carlita gioielli i miei gioielli li trovate sul mio shop online ragazzi sono felicissima perché finalmente li ho riforniti tutti quindi venite a vedere li trovate tutti disponibili so che li stavate aspettando perché erano andate a ruba tutte le varie collane gli orecchini il bracciale la caviera summer vibes sono tutti di nuovo disponibili i trucchi che sto usando tantissimo in questo periodo sono questi di nabla anche questi li trovate su carità shop in particolare la nuova linea de nude che è veramente super illuminante perfetta pazzesca sulla pelle abbronzata adoro e come tinta labbra mi piace tantissimo questa qua che è roses dura tantissimo anche rossetto balkis anagallide sono veramente i miei preferiti e questo mascara che utilizzo sempre che allunga tantissimo le ciglia comunque vi metto tutti i link dei prodotti nel box info e queste sono la borsa e le scarpe che indosserò oggi un'altra cosa che amo tantissimo sono questi profumi questi sono i miei preferiti sono profumi naturali e bio che vi straconsiglio ragazze anche il deodorante sempre naturale bio mi piace tantissimo vaniglie mandorla e ambra e gersomino e come prodotti per capelli vi consiglio questi qua che sto usando veramente sono favolosi shampoo e balsamo e la maschera all'olio di argan e cashmere è favolosa mi sono messa tutti i miei gioielli vedete il bracciale summer vibes che adoro e questi prodotti per capelli che vi straconsiglio e metto tutti i link nel box info sotto questo uno spray anticrespo davvero favoloso lo uso sempre assieme a cristalli liquidi io uso quelli per capelli biondi ma troverete sul mio shop il colore in base al vostro colore di capelli sono prodotti favolosi che eliminano l'effetto crespo e lucidano i capelli e li nutrono eliminano le doppie punte le punte spezzate sono veramente ottimi io li utilizzo sempre assieme anche allo shampoo e balsamo della stessa linea appunto che vi ho fatto vedere prima e la maschera quella all'olio di argan e cashmere quando voglio dare maggior nutrimento ai capelli la lascio in posa 10 minuti prima di sciacquarli adesso sto mettendo il deodorante il profumo mandarino e basilico ragazzi è favoloso super estivo dovete provarlo è molto molto allegro mi dà tanta gioia quando lo metto ultima cosa che faccio prima di uscire e prendere il mio integratore di vitamine questo qua 100 per cento l'integratore che ho inserito sul mio shop e vi straconsiglio perché vi dà tanta energia e serve tantissimo in questo periodo io vi ringrazio spero che questo video vi sia piaciuto che mando un bacio fortissimo vi auguro buona estate guardate il box info con tutti i link dei prodotti ciao ragazzi vi amo